Grazie a tutti. Ok. Non posso? No, no, vieni, vieni. Ma come vieni? Vieni! Dai! Ci sei? Sì. Ce la fai a prenderla? No, non ci arrivo a prenderla. Come non ce la fai? No, non ce la faccio! Ale! 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 Vieni! Cosa ci fate? Vieni sotto! Dai che c'è il cavo, se non ci arriviamo. E come facciamo a registrare? Dai! Ci sei? Vai, tira questo cavo. Tira? Eh, sto tirando. Vediamo se funziona. Quello rosso! Quello rosso. Ok. Vai, accendi! Prova! Accendi! Vado! Ragazzi, funziona da Dio, senti che bel rumore. Stai? Vieni Ale, vieni nonno. Andiamo nonno. Ragazzi! Ragazzi! Nonno! Ragazzi! Nonno! Ma se non mi aiutate a tirare fuori, io mi sono incastrato! Dai! Dove andate? Ragazzi! Stai! 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 Grazie a tutti